Selezioni l'entità da disegnare. Hai attivo il riconoscimento automatico da IFC. Effettui un clic del mouse. Ottieni il disegno dell'oggetto. Riconosci in questo modo le aree calpestabili. Le aperture e le uscite di sicurezza. Gli ostacoli. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.